Musica Buonasera a tutti e benvenuti bentornati su Hey Monster Attenzione ragazzi siamo tornati di nuovo su questo bel zocchino riguardanti i pokemon e il loro bellissimo mondo Oh c'è un girachi Dammi il girachi Dammi il girachi Ecco Allora gli ho chiesto l'amicizia perché c'è il girachi Manderà quel paese probabilmente Non dai girachi Tu puoi dirlo che io dai Facciamo un baratto Io ho questo bellissimo nocto L'ho allenato con le mie manine santo Mi dai girachi Non mi dai girachi Allora ragazzi Un'altra volta abbiamo vinto la palestra Abbiamo preso la nostra prima medaglia E oggi andremo avanti con le missioni Collect base your first game Vabbè poi andiamo avanti Prima cosa facciamo le cose come sempre appena uno entra qua Capsule Vediamo un po' se ho fortuna Siamo veloce Ve la sbologno in fretta Cos'ho preso Dream heart or ship Non so cos'è dream heart Ho cliccato su voi ancora Ma che pirla Ma che pirla Ma che pirla Ma lei è un pezzo Ne ero pirla Mi viene da piacere Vediamo se questo qua è vero di più Questo c'è qui dentro C'è Flare un art book Vabbè dai posso tornare a muter Mi viene da piacere che mi sono sbagliato a cliccare Vediamo pure i soldini Ok Gli eventi Vediamo un po' se c'è un evento un po' interessante di oggi No vabbè c'è Il daily login Cioè il mio primo login della giornata Ci sono altri eventi che posso prendere C'è questo 90 Lo posso prendere Lo posso prendere È un evento del giorno E va bene lo posso prendere Posso prendere anche questo Se prendiamo tutto il possibile Prendiamo tutto Quello che si può E siamo a posto Allora Ah una cosa La mia squadra l'ho un po' aggiornata Vi dico già Ho preso Snorlax Vi avverto Purtroppo questa cosa non sono uscito a registrarla Perché quel giorno non potevo Però dato che era un evento appunto di quella giornata Mi sono preso questo Guarda che bello Un paciocchino Con le guanciottine Guarda Ebbino Poi c'ha due dentini Che di lato Che proprio Che bello Bello A me è Snorlax È dei miei Pokémon preferiti Quindi mi piace Poi niente In squadra ho i soliti Pokémon Più c'ho Snorlax Che come avevo detto Non sono riuscito a farvi vedere E mi sono messo anche Poliwag Ok Mi sono messo Poliwag E allo stesso tempo Lo posso potenziare E lo posso anche far evolvere Ho voluto aspettare questo momento Quindi Niente E un E un Due Tre Boom Il mio Poliwag Si sta evolvendo Si evolve Dai 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 Guarda che faccia da Ebbets C'è tipo la faccia E Dai 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 Che bello Poliwag Madonna Può essere sincero Mi piace anche Poliwag Poi posso potenziarlo Con gli Artbook L'ho detto Potenziamolo Perfetto Guardate la mia squadra Inizia a prendere forma E aspetta un attimo Facciamo sì che il mio bellissimo Poliwag Mi segua Guardate che bello Guardatelo che bello Tondino Oddio bellissimo Bellissimo Mi piace un casegno Ma il Poliwag Andiamo avanti con le quest E pigiamo su go Ok Colleziona Le medaglie Nella prima palestra Cioè la palestra Ah devo andare Da questo qui Ok Per qualche oscuro motivo Devevo andare da questo qui Volevo andare Alla palestra terra Di Beridian City Ok Vabbè Devo andare là Per Credo la prossima medaglia Credo Non lo so Non lo so Sto andando molto Molto Devo tornare da questa scema Ho completato la quenza Perché credo che Dovesse tornare da lei Quando avevo preso la medaglia La medaglia l'avevo già presa Ma non ho ben capito Cosa è successo Vabbè Ok Devo collezionare un trainer Nel percorso 4 Quindi credo Devo affrontare L'allenatore Nel percorso 4 Quindi devo fare la sfida Ora si può avanzare E avanzeremo Mi diverto Se avanza Se avanza Come mi diverto Allora Ok Affrontiamo il nostro primo allenatore Perfetto Affrontiamo il nostro primo allenatore Ma noi allenatori Ci fanno via paura Noi allenatori Ce li mangiamo a colazione Noi allenatori Cazzo però Magnemite Bello Dai Bello Solo che è uno snolash a livello Forse lo dovevo Forse lo dovevo un po' allenare Questo snolash a livello 1 Che dite ragazzi Sì forse lo dovevo un po' allenare Sì vabbè Ciao Donna sto magnemite Me lo mangio a colazione Proprio lo prendo nei cereali Che tra l'altro È una forma tonda Quindi me lo posso anche mangiare meglio Fammi attaccare Fammi attaccare È sotto paralisi Non può Non riesce È imbecillito È per Ma da quando uno paralizzato Non può muoversi Ah è pure confuso Ah beh beh Mi fa piacere Mi fa piacere Io sto sparando a casa Dai Per favore Dai Cioè dai per favore Dai Petalo danza Me ne frego Dai Mi sono rotto i cast Dai Petalo danza E mi aveva rotto i rogioni Dai su E mi aveva rotto i rogioni Vittoria Perfetto E mi aveva stufato È veramente Su Mi prendo quelli che ho speso prima per errore Che figullati a shiny Bello 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 Andiamo avanti Ale Ho preso tutti i soldi Allora che devo Ah sì da questo scemo qui devo andare Posso andare adesso Sì Va bene Va bene Cliccare sopra Fammi cliccare sopra Oh Safari Una zona Ah ok No ancora no Avevo capito che potevo Dai Dov'è che devo cliccare Per capire Ehm Qual è Ok posso fargli Ah ok da qua No non lo posso ancora fare il Safari Devo essere a livello 6 Cioè mi manca poco Mi manca il prossimo livello Sono al 15 Quindi per arrivare al 16 Mi manca un cavolo Ok posso fare un altro evento Ok beh 10.000 Più Ducasse E Selezione Volative Stone Ne ho tanta cristalli Beh neanche male Neanche male Neanche male Neanche male Andiamo avanti Andiamo avanti con le nostre lotte Non ho spostato lo Snorlax Porca di quello Lo dovrò allenare Sto cavolo di Snorlax È forte ma Ecco appunto Mi sono scordato Dai mi sono scordato Non se la prende nessuno Dai Sfruttiamo questo bel Poliweer Appena evoluto Minchia sto poliweer L'ha sciottato Grande sto poliweer Grandissimo Un po' di acquetta Mi ha annaffiato Vai con un assorbimento Fallo secco Vedi Così si fa Così si fa Vedi un po'? Così si fa Andiamo avanti Su Avanti il prossimo Però non mi ha dato Le tre stelle piene È perché si vede Che il mio Snorlax Ha perso Quindi non mi ha dato Le stelle piene Ma sono un po' giocata Vabbè Comunque Dov'è qua che posso andare Posso fare anche così? Sì ok Posso scambiare anche da qua E niente Devo comunque Devo allenare Snorlax Lo farò off camera E metto un attimo lì E allenerò il mio Snorlax Per renderlo comunque Dato che ho Pokémon forte Non posso non sfruttarlo No Siamo seri Allora Non posso ancora Potenziarmi ancora i Pokémon Vabbè Andiamo avanti Su Voglio fare sto percorso E andare dritta alla meta Posso bloccarmi? Voglio vedere un attimo La mappa Del mondo Ecco Perché io sapevo Ecco appunto Che posso prendermi Entei Andando avanti So che posso prenderlo Leggendario Catturabile Ok In teoria Posso prendermi Entei Poi più avanti Devo arrivarci però Mi ci vuole un po' di tempo Perché ci devo arrivare Credo di poterlo Già prendere E poi quando c'è Non lo so Non lo so Però ti prenderlo Per l'entere Oh una pupa Una pupa Ah un giorno signora pupa Guarda le offro un assorbimento Lei mi offre qualcosa anche lei? No non mi offre niente Grazie Molto gentile Ok signore Vabbè Di spalle Di spalle perché fa più figo Mi scusi la signorina Ha visto il mio Poliweer La tiene per mano il mio Poliweer Eh le piace il mio Poliweer È di ultimissima generazione Appena è voluto Dopo le vassi andiamo per un caffè Mi sa di no Andiamo avanti Posso prendermi il Gif Prendiamo il Gif Ok A volte non le capisco Le ste cose che devo fare Cattura due Pokémon Di tipi Ok Le per costruire Catturare due Pokémon Va bene Va bene Non è neanche una cosa Troppo completa Va bene Va bene Dai Catturiamo sti due Pokémon E andiamo avanti Dai magari qualche cosa Che ci possiamo tenere Anche nella squadra Eeeh Un Rattata Bello Bello No no Bello Rattata Comunque Bellissimo C'è il sole che mi Mi picchia di luce divina Avevo chiuso la finestra E mi sedi aperta Porco Vabbè comunque Vediamo di catturarlo Dai su Perché se non riesco a catturare Rattata Vuol dire che sono proprio Alla goccia Se non riesco a catturare Sto qui Vuol dire che sono Fretto E sta fretto Detto proprio chiaramente Ok Devo catturare ancora uno C'è un altro Rattata Mi sparo Dai No un altro Rattata Davvero Ma dai Un altro Rattata Eh voglio un altro Rattata Mi fanno cagare Snubbull Seriamente Ho trovato uno Snubbull No Non l'ho sciottato No Non l'ho sciottato Perché Devo catturare ancora uno Ma non riesco Dai Devo catturare ancora uno Aspetta Questa è il suo in alto Ah ok Senza capire come E perché Ho vinto qualcosa Perfetto Mi va bene Meglio che mi dia quella roba Che me la tirano via Guarda Sinceramente parlando Ti ha detto niente Vabbè Spero che catturare un altro Rattata Porti buono Perché sinceramente parlando Mi sono stufato Catturato Catturato Dai dimmi che ho fatto la quest Dai Dimmi che ho fatto la quest Perché E so zarot E capro Perfetto Fatela quest Andiamo Devo tornare dalla signorina E dire Guardi signorina Ho catturato Due pokemon del percorso Guardi signorina Ho catturato Due pokemon del percorso Mi dia i soldi Ah no Ah ok Mi dia i soldi Perché se no Guarda Dammi i soldi Devo aiutare Mitsudi E percorso due Eh Si trasferisci Praticamente Devo accompagnarla Per il percorso Quello che ho capito Perché io di inglese Sono Sono messo Peggio Di un Di mio nonno Cioè forse mio nonno Non sa di più l'inglese Forse Forse Lui è più pratico Di romagnolo Comunque Ok Devo dargli una mano Il mio pokemon Afraid Di tipo Ob Gli ho dato una mano Se sapere il perché Senza capire il perché Per come Devo catturare due pokemon In questo percorso Va bene Senza capire il perché Per come Devo stare qui E catturare Va bene Mi va bene Mi va bene Cosa è facile Che bello Furet Che bello Che bello Furet Vai ciao Furet Fatti catturare Furet Fai poco Il pezzo di merda Furet Fatti catturare Furet Dai Si c'è pure uno stronzo Furet Però E fatti catturare Che stronzo Che stronzo Mi tocca anche Cambiare il pokemon Perché se no Me lo mette kaput Questo qui Vai Snorlax Vedi che torni utile Snorlax Aia Snorlax Sembravi Più poderoso Vedi però È forte Ok ok Mi rimangio Scusa Snorlax Sei forte Va bene Un colpo Due livelli di differenza Un colpo Ma lui ha sciotta Ok ok Massimo rispetto Per Snorlax Massimo rispetto Si ma Però sei una merda Furet Sei una merda Dai su Dai Dai Alleluia Due ore Per catturare Sto stronzo Dai Madonna Che sudata Allè Meno uno Sudata A catturare Un Un furet Un cavolo Di furet Non è che sia Un Rhyperior Un altro furet Ma vai Che gare Allora Vatterà Che gare Direttamente Dai su Prova una volta Se non ti catturo Ti mando a quel paese Ti avverto Quindi sfrutta L'occasione Finché ce l'hai Se no Ti mando davvero A fanculo Dai su Dai Velocizza anche la lotta Dai su No perfetto Sei stronzo Quindi stai libero Mori di fame In giro per Per il mondo Vai Fanculo Come si fa a scappare Ok non posso scappare Perfetto La cosa mi fa molto Ah no C'era Escape Fanculo Non l'avevo visto Non l'avevo visto Fanculo Stronzo 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 proprio E' un pezzo di merda Sto furet Mi stasso le palle Ok Caterpillo Preferisco Sinceramente A confronto a furet E' proprio Guarda un po' Stamusetto Tondo E' più carino Dai E' più carino E' più paciocchino Guarda Le paciocchino Guarda Non lo posso indebolire Potevo ricaricarmi Snorlax In effetti Non ce l'ho neanche pensato Sì vabbè Siete stronzi Siete stronzi Fatevelo ben dire Ultra Via Tanto ne ho 38 Vaffanculo E' entra Non provare neanche ad uscire Non ci provare neanche ad uscire Sta lì Vedi Basta di dire le cose Se uno le cose le sa Basta saperle Basta saperle Se è già a posto Vedi Catturato anche il Caterpì Ho finito la quest Bene ragazzi Comunque direi che per oggi Il video si può concludere qui Ho fatto abbastanza quest Guardate un po' Le luce Sembra la discoteca La luce Sto muovendo le mani Comunque ragazzi Spero che il video vi possa essere piaciuto Vi ricordo di lasciare il palazzo Se il video vi ricordo di lasciarlo Se il video vi ricordo di lasciarlo Se il video vi è piaciuto Se il video vi è piaciuto Commentatelo Condividetelo dovunque Anche al Cerso mi raccomando E niente Ditemi secondo voi Chi devo avere in squadra Ditemi a che punto C'avete voi Ditemi quanto c'avete No quello Me lo dite in privato Poi con calma E niente Per il momento Possiamo dire Che è finita Ancora una quest qui da una parte Fammi vedere qua c'è dentro A main No No fermo Non ci voglio mica dare Ok questo lo faccio un'altra volta Prendo i soldi I soldi senza fare un cazzo Sono i migliori Ciao Ciao